allora siamo di nuovo qui oggi mi è capitato di vedere un video ovviamente non faccio il nome di chi era l'autore di questo video dove però si parlava nuovamente di un di un fatto che in realtà non è attuale ma è di qualche tempo fa di quando una branca della foi si era scissa per dare vita e creare una nuova federazione detta fuasi della quale oggettivamente io non ho più riscontri e notizie perché a discapito di una partenza scoppiettante o dove si parlò molto di questa situazione si è vissuto un momento in cui e si sta vivendo tuttora un momento in cui di questa federazione non se ne parla praticamente più quindi io in questo momento da iscritto poi in tutta sincerità non so nemmeno se la fuasi goda ancora di vita o se già qualcosa che è morto così come era come era nato quindi in questo caso sono io a non avere notizie attuali certamente i presupposti con la quale con i quali questa fuasi aveva deciso di approcciarsi non solo non hanno mai riscontrato un mio parere giudizio favorevole ma sono stati a mio modo di vedere parecchio discutibili e credo che comunque in ogni caso sia una federazione che non ha non avrà vita lunga a prescindere ma questo è un mio pensiero ovviamente oggi siamo nel nuovamente qui a farci degli altri nemici sono consapevole di questo ma come ormai penso avete imparato a conoscermi quello che devo dire lo devo dire è il senso di fare i video penso che sia soprattutto questo non ha senso trattare degli argomenti a casaccio o parlare di cose senza poi esprimere una propria opinione che sia giusta che sia sbagliata state lì a commentare tranquillamente ma è corretto fare così quindi sono consapevole che con questo video oggi avremo qualche nemico in più ma probabilmente ci saranno anche di quelle persone che questo video lo capiranno e avranno un ulteriore stima di me andiamo nello specifico praticamente in questo video si andava a definire vabbè io non voglio usare questi termini politici infatti me ne guardo bene ma si andava a definire una dittatura quella della foie dittatura perché a suo dire se sei un iscritto foie e la foie viene a scoprire che tu fai le gare con un'altra federazione eccetera eccetera la foie praticamente disqualifica e la foie è una dittatura perché se tu non sei iscritto con loro allora loro ti buttano fuori eccetera insomma io vorrei fare un po di chiarezza su questo il concetto è molto semplice la foie una federazione come una come qualsiasi federazione che sia quella del gioco del calcio che sia quella del del gioco delle bocce ovviamente vive di regolamenti interni regolamenti interni che prevedono comunque appunto delle regole le regole non sono dittatura semplicemente stiamo facendo un gioco questo gioco in questo caso un hobby a delle regole regole alle quali una persona è libera di potersi attenere e quindi partecipare e far parte di questa federazione o è libera di non condividere questo pensiero e quindi trovare un'altra sistemazione o allevare diversamente perché si può allevare anche senza essere necessariamente iscritti in poi esistono aziende che fanno previo pagamento degli anellini specifici a norma di legge per anellare i propri uccelli ovviamente questo non ti potrà far gareggiare nelle mostre della foie ma comunque potrai anellare i tuoi animali ovviamente la foie di che cosa dice dice se tu vuoi gareggiare nelle mie manifestazioni che io organizzo ovviamente ti devi attenere a quello che il mio regolamento io accetto solamente gli iscritti alla foie tutti quelli iscritti a un'altra federazione o un'altra associazione a quello che ti pare andranno in questa federazione a farsi legare per fatti loro questo non mi sembra una dittatura mi sembra un regolamento regolamento che ripeto può essere condiviso e può non essere condiviso se non è condiviso è tanto facile prendi i tuoi animali e vai in altra associazione stop non vedo dove nasce la polemica da qui a definire dittatura un regolamento penso che ce ne passi ma soprattutto mi pare strano la posizione di chi non condividendo quello che fa la foie che poi non ho capito questa foie di che cosa sia così accusata insomma che cosa abbia fatto di così grave è bellissimo perché non condividono quello che è il modo di agire della foie ma pretendono di farne parte o peggio ancora di non farne parte e di gareggiare però a quelle che sono le manifestazioni della foie e cerco di fare un esempio più diretto no è come se voi organizzate una festa di compleanno e persone che non vi potete vedere durante tutto il l'anno quel giorno decidano che devono far parte della tua festa di compleanno cioè se io ti sto antipatico se io faccio robe che a te non piacciono per quale motivo devi poi avere la presunzione di partecipare a una manifestazione che io stesso ho messo in piedi perché poi questo il concetto se tu non condividi il mio modo di agire il mio modo di fare il mio modo perché pretendi poi di volerne far parte per vie traverse e questa è la roba che non si capisce quindi dove sta la dittatura dove sta il o fai così o fai con lì semplicemente la foie ti dice per gareggiare nelle mie mostre nelle mie esposizioni tu devi essere un mio iscritto se vai in altra associazione o federazione andrai a partecipare a quella federazione ma alla mia non parteciperai ripeto è una cosa che avviene nella vita normale di tutti i giorni non lo so anche se fate un'iscrizione a un circolo di tennis per dire se hai la tessera e sei un iscritto puoi entrare puoi giocare puoi fare se questa tessera non ce l'hai semplicemente nella struttura non ci puoi entrare e dittatura anche quella mi sembra che si usino dei termini politici in base alle simpatie poi del momento in base se sei insomma vabbè non ripeto non voglio parlare di politica perché poi è un ambito che con l'ornitologia non dovrebbe avere nulla a che fare quindi non voglio entrare nello specifico ma scomodare termini storici o roba di di altra caratura mi sembra una cosa eccessiva per una roba simile e questo è il mio pensiero ripeto condivisibile non condivisibile questo è il mio pensiero ovviamente la facciamo anche questo discorso salto di palla in frasca voglio parlare anche di questo immaginatevi già l'ornitologia sta vivendo un momento particolare ne avevamo già parlato in qualche video fa quando si è discussa la legge sugli esotici sulla detenzione eccetera eccetera quindi fondamentalmente l'ornitologia è un ramo che perennemente viene messo a repentaglio nella sua esistenza dalle varie lav eccetera eccetera insomma tutte le associazioni animaliste del caso se inizia a esserci una guerra intestina dove in realtà bisognerebbe fare fronte comune quindi unirsi e lottare per qualcosa di bello e positivo come può essere il nostro hobby e voi immaginate queste lotte intestine dove ognuno decide per accaparrarsi questa o quella poltrona di crearsi un giocattolino improprio e immaginate che anziché avere solo due alternative cioè immaginatevi un mondo dove ornitologico dove dalla foie partono 5 6 7 altre federazioni sicuramente voi dite sarebbe una cosa più democratica sarà anche non lo so ma la democrazia ripeto non è che nessuno ti forza a stare con la foie se non ti sta bene non è che posso crearmi da solo un giocattolino e creare 50 giocattoli che porteranno a 50 mondiali 50 campionati italiani 50 e manifestazioni diverse di diverso tipo che conteranno magari poi quanto 200 300 mille persone al massimo quindi dividendo ulteriormente diventando campione del mondo campione italiano di che cosa di una manifestazione con soli 500 partecipanti per dire cioè capite che è una roba di una bruttezza unica sarebbe come se i mondiali di calcio anziché farne uno unico ogni quattro anni praticamente ogni anno si alzasse uno e ora organizzo un mondiale di calcio e allora un anno parteciperà il senegal un anno parteciperà vedremo che ne so marocco contro burkina faso e poi il burkina faso diventa campione del mondo perché giustamente l'italia non ci sta la germania non ci sta cioè non so se il mio paragone riesce a essere percepito non si può avere la presunzione di far parte di un mondo di qualcosa di storico perché la foie fino a prova contraria è la storia dell'ornitologia e pretendere di farne parte ribaltando totalmente ma per il quale motivo per il solo motivo di accaparrarsi la poltroncina di turno o per non lo so per cercare di creare qualcosa che crea ulteriore scissione quindi ripeto non solo sono state dette delle inesattezze perché qui non c'è nessuna dittatura e nessun monopolio la federazione italiana è quella è la foie se a voi la foie non sta bene per il suo operato perché non vi sta simpatico il presidente esposito o perché ci avete delle problematiche interne di vostra o di che possono essere di svariato tipo non significa che io prendo mi costruisco il giocattolino da solo e credo scissioni perché in qualsiasi associazione in qualsiasi federazione potranno esserci delle situazioni che non condividete o che non condividerò in futuro detto questo se per ogni cosa che non condividiamo andiamo a creare una federazione un'associazione eccetera eccetera ci ritroveremo ad avere 50 federazioni che non saranno capaci di fare una roba buona già fa fatica la foie lo stiamo vedendo tutti sta facendo molta fatica la foie a reggere l'urto di queste associati di queste associazioni animaliste di queste situazioni che si vengono annualmente a creare voi pensate veramente che creare ulteriore disagio ulteriore confusione sia una roba d'aiuto a qualcuno e ripeto e dittatura dire questo è il gioco che io ho ideato queste sono le regole o tutti attieni a queste regole o altre altrimenti vai a giocare all'altra parte io non credo che questa sia dittatura io ti lascio la libertà assoluta di andare dove ti pare di fare come ti pare perché poi ripeto non è che per forza signori dobbiamo andare a fare le mostre per cercare di vendere poi di più i nostri soggetti perché poi è sempre lì non è che partecipano alle mostre per il gusto della sana competizione partecipano alle mostre perché giustamente io ho vinto questo questo e quell'altro il mio soggetto vale di più quindi ripeto la pretesa di far parte di un contesto ma criticare quel contesto e poi avere la pretesa di comunque dover gareggiare dentro a una roba che ho organizzato fondamentalmente io che a te non sto bene cioè per me è fuori dal mondo una roba simile e ripeto vogliono nascere nuove federazioni liberissime di essere create ed è liberissima la gente di decidere di andare con queste nuove federazioni ma dal momento che ti prendi la responsabilità o hai preso una decisione di andare a stare altrove non mi sembra nulla di strano se poi troverai le porte di casa mia chiuse perché poi è quello il concetto tu sei andato via perché con me non stavi bene stai con un'altra che cosa ti posso raccontare io che fai torni da me perché la ti sei ritrovato male mi sembra una cosa che sia normale nella vita in tutti gli ambiti quindi non vedo nessuna dittatura non vedo nessun nessuna costrinzione e la federazione è questa ragazzi la federazione è questa sono orgoglioso di far parte della foi nonostante non ricopro all'interno della stessa alcuna carica né politica né amministrativa e certamente potrebbero essere fatte meglio tantissime cose ma sono sicuro che non è con i fenomeni di turno che si risolvono le situazioni non è che se si alza pinco pallino del caso e si crea la sua federazione che si possano sinceramente risolvere le problematiche chiudendo perché già è un quarto d'ora di video dove parlo 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 ma l'argomento è particolarmente importante al mio modo di vedere io penso che bisognerebbe fare fronte comune l'ho già detto in altri video e lo continuo a sostenere ora se c'è qualche cosa che non va bisogna cercare di metterla sempre all'attenzione di chi magari gestisce o chi magari ha potere di far cambiare le cose ma non è ripeto certamente distruggendo una federazione o attaccandola quotidianamente su social su giornali su su sui commenti di qualsiasi tipo eccetera eccetera che si risolvano le problematiche quindi torno a dire tocca fare fronte comune se qualcosa non ci sta bene ed è normale che sia così farlo notare metterlo metterlo più in evidenza possibile ma ripeto non è certamente facendo delle scissioni che il nostro movimento potrà già potrà trarre dei benefici perché già il periodo è difficile già abbiamo avuto tanti problemi quindi che dire seguite il video possibilmente fino alla fine altrimenti non capirete nella totalità quello che è stato detto quello che è il massacro su questo video qua perché è normale che sia così però questo è il mio punto di vista e spero che sia chiaro io non ho assolutamente alcun interesse a difendere una federazione piuttosto che un'altra perché semplicemente sono un semplice iscritto come come tutti voi non ricopro alcun ruolo e probabilmente mai lo ricoprirò perché non mi sono mai interessato di questo e se un giorno lo dovessi fare non è certamente in virtù del fatto che ho difeso la mia federazione e questo è quanto quindi lasciate un commento fatemi sapere voi che cosa ne pensate su questa cosa qua cercando ragazzi possibilmente di mantenere come il nostro stile un modo pagato di commentare e di confrontarci un saluto a tutti quanti aspetto quindi il vostro parere su queste idee qua ciao ciao